Prima di passare al filmato vi invito a fare alcune considerazioni come ho fatto personalmente. La prima, sono passati 59 anni da quella prima passeggiata nello spazio, ma a parte il design rispetto a quelle attuali, le tute non hanno praticamente avuto alcuna modifica significativa a livello tecnico. La seconda, osservate la terra e le nuvole e se solo annuite a dire che sono come quelle che vi mostrano oggigiorno, significa che la vostra fantasia sta facendo un ottimo lavoro di immaginazione. Vi invito anche a fare attenzione a questi due ingrandimenti di due foto originali e spiegare come mai sul riflesso del casco si vedono due cose completamente differenti. Certo il sole in una è di fronte e nell'altra è di lato, però la cosa arrotondata di colore marrone nell'immagine a destra è la terra? Mistero della fede. La terza, se credete che la pressione all'interno della tuta sia vicina alla pressione necessaria per sostenere la vita umana in un ambiente sottovuoto, vi invito ad informarvi che dovrebbe gonfiarsi come un palloncino. Per le vostre ricerche suggerisco il video Vuoto nello spazio e l'Apollo 11, attraverso lo strepitoso indice alfabetico a cui si accede dalla pagina www.tinelli.eu. Raro filmato della prima passeggiata spaziale. Nell'Unione Sovietica per la prima volta nella storia viene effettuata la prima uscita di una persona da una navicella nello spazio. I fotogrammi di questo documentario sono originali. Sono stati filmati il 18 marzo 1965 da una cinepresa automatica installata a bordo della navicella spaziale Vodscot 2. Il pilota della navicella è Pavel Belayet. La persona nello spazio interplanetario. Buon viaggio. Funziona. Sorride. Significa che le persone possono unirsi alle navicelle, montare nuove navicelle in orbita, passare da un razzo all'altro e uscire in caso di emergenza. Il passo coraggioso e importante verso la Luna è compiuto. E il primo di questi è quello sovietico. Tutte le compagnie spaziali del mondo fanno parte della stessa identica programmazione del piano del nuovo ordine mondiale, ma che invece sta avanzando da secoli per il controllo mentale delle persone attraverso il credo che vanno dalla religione alla fiducia delle persone più in carica, vedi politici, all'istruzione, meglio distruzione obbligatoria attraverso l'indottrinamento scolastico, all'imposizione del pensiero unico attraverso giornali, radio, televisione, cinema, social, serie televisive, dove propinano esattamente ciò che non esiste nella natura del regno piano che ci ospita.